Buongiorno a tutti, oggi siamo a Ala di Stura in Val d'Ala, una dei tre valli di Lanzo e qua c'è una seggiovia che collega Ala di Stura a Pian Belfè, Leitner 1978 sostituita che è stata revisionata da CCM, Pulegge e Rulli, Rulli non tutti e poi non funziona dal 2019 a causa incendio, infatti qua si vede chiaramente segni di incendio stagione 2020 forse ha funzionato, io non lo so, comunque adesso seguirà un video di analisi dell'impianto qua ha preso fuoco a biglietteria e tutto quanto, 2019 e qua abbiamo l'impianto qua ovviamente Puleggia e poi vediamo Contrappeso quindi rim e tenditrice e poi vediamo a targa il costruttore Leitner ovviamente come vedete una seggiovia biposto notare anche che mancano i falconi, anzi qua dietro nel parcheggio c'è un falcone quindi forse devo ammettere, non lo so ha una linea bella ripida come vedete ritenuta con sostegno ad arco e lì arriva Pian Belfè dove ci seguono altri impianti come un altro ski lift Leitner e qua infine abbiamo la stazione e vabbè buona giornata a tutti grazie 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 a tutti